Dal punto di vista umano, come essere umano, una grande soddisfazione, nel senso che un giorno pensi a una storia, la scrivi, questa storia piace, da questa storia fanno pure un film, non credo possano farci solo un videogioco a questo punto, quindi io sono molto contento. Poi l'abbiamo girato a Torino, che è una città che mi piace, ma non lo dico perché siete di Torino, insomma non faccio mai complimenti gratuiti, ho già girato un altro film dopo questo qui a Torino, per me c'è il gelato più buono del mondo, a me piace il gelato per cui vengo sempre volentieri. Molto giovani siete, mi dispiace che io sono un po' vecchio, ma è comunque un saluto a onde quadri, ciao, mio figlio vi segue sempre, va bene. Ciao. Grazie mille.